Insieme a noi in sala stampa uno dei nuovi volti del basket Agropoli, Mirko Turel, a cui diamo innanzitutto il benvenuto sul canale ufficiale della società sportiva del basket Agropoli. Ecco Mirko, raccontaci un po' la scelta di venire a giocare per questa società nel Cilento. La scelta è stata semplice, ovvero ho sentito il coach diciamo verso fine giugno e dalle sue parole anche tramite procuratore, tramite società e tramite le parole insomma mi hanno convinto subito a far parte di questo gruppo ad Agropoli. Subito un grande impatto tra i protagonisti in assoluto di questo precampionato a Caserta, d'Avellino, nel Memoria al D'Alto sei risultato il miglior realizzatore. Sì diciamo che mancando l'americano titolare che gioca da tre che magari avrà anche lui un po' più di spazio, di minutaggio e magari giocare più possessi. Ho avuto più minuti e insomma grazie a questo magari sono riuscito a giocare di più e a avere più spazio. Ecco che campionato vi aspetta secondo te? Ci aspetta un campionato molto duro, intanto dobbiamo pensare a salvarci e dopo la salvezza si penserà al resto insomma. Ecco si dice che il girone ovest sia più competitivo e più difficile rispetto a quello ovest, tu che l'anno scorso stavi dall'altra parte del girone, cosa ne pensi? Dipende dall'annata, dipende dai giocatori, dalle società. L'anno scorso se non sbaglio tra le prime quattro sono arrivate tre del girone est e una del girone ovest. Però insomma non si possono fare previsioni su questo tipo, vedremo come va il campionato e le squadre come saranno. In queste prime settimane cosa ti piace di più di Agropoli? Che è sul mare, è una città piccola e stando per strada si vede anche il calore che ti dà la gente. Entri in qualsiasi negozio, c'è lo stemma del basket di Agropoli e questo per me è super, è una roba che ti dà carica. Grazie mille e ti auguriamo una buona stagione. Grazie a voi.